E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Royd e oggi vediamo dove si trova il mercato nero di Maurizio nella settimana che va dal 23 al 30 settembre. Questa settimana ci troviamo al picco dell'ascensione, Ascension Bluff, e il mercato nero sarà abbastanza vicino a uno spawn e facile da trovare. Se sapete come arrivare al punto indicato bene, altrimenti vediamo il percorso sulla mappa. Nel mentre che raggiungo il punto, ovviamente velocizzato, vi invito a iscrivervi e lasciare un like nel caso non siete ancora iscritti in modo da non perdervi dove si troverà il mercato nero la settimana prossima quando cambierà posizione. Eccoci arrivati, questa settimana nel mercato nero troveremo il fucile a pompa leggendario Hyperion Reflux, uno dei migliori del gioco che consiglio su quasi ogni build, il fucile d'assalto leggendario Blood of Damned e infine la Smart Gun XXL SMG leggendaria Tediore.